Il mosaico delle nomine nel governo gialloverde è ormai completato e la campania entra nell'esecutivo del premier Conte dalla porta principale dopo aver piazzato due pedine con il vicepremier Luigi Di Maio alla guida del Ministero del Lavoro e il generale Sergio Costa all'ambiente. La squadra dei parlamentari campani riesce a farsi largo tra le 45 nomine decise in appena 30 minuti dal governo Lega 5 Stelle. Sono sei le postazioni che la campania conquista e il Movimento 5 Stelle a fare la parte del leone forte anche della percentuale da record conquistata alle ultime politiche quando un campano su due aveva votato i candidati pentastellati. Tra i sei sottosegretari due sono i salernitani, il senatore Andrea Cioffi va allo sviluppo economico mentre il deputato Angelo Tofalo entra al Ministero della Difesa. Il parlamentare avellenese Carlo Sibilia diventa sottosegretario al Ministero dell'Interno dove trova come capo staff del Viminale un altro irpino l'ex prefetto di Bologna Matteo Piantedosi. I grillini conquistano anche la delega alle pari opportunità e giovani con il braccio destro di Luigi Di Maio il napoletano Vincenzo Spadafora. Nominata al Ministero per il Mezzogiorno la leghista ex Forza Italia Pina Castiello da Afragola seguirà i problemi del sud dalla presidenza del Consiglio dei Ministri in stretto raccordo con il premier. Ultima poltrona al 38enne Salvatore Micillo napoletano di Villaricca che arriva dal cuore della terra dei fuochi ed è sottosegretario al Ministero dell'Ambiente al fianco del generale Costa deciso a continuare a combattere la sua battaglia contro il traffico illecito dei rifiuti nella terra più avvelenata della regione Campania